Sessore, buonasera, bentornati qui al punto, nei studi di Telefriuli. Dunque la situazione politica regionale e anche nazionale si sta un po' intrecciando, perché evidentemente sia centro-destra e centro-sinistra, gli uni cercano un'alleanza più stretta del candidato, gli altri cercano proprio l'alleanza e mi pare che ci sono anche più candidati, perché in questo momento anche Illy, spinto da Cecotti, mira a momentino a entrare nella partita. La partita che si svolgerà anche con una competizione con i 5 Stelle, perché probabilmente i 5 Stelle cercano anche il boom elettorale qui in Friuli, nonostante i sondaggi non li diano ancora in competizione. Naturalmente i collegi elettorali sono abbastanza appetibili, soprattutto a centro-destra e quindi il centro-destra ha in questo momento gli occhi puntati dei sondaggisti e anche dei media, perché è dato per vincente, ma questo si vedrà dopo le urne, dopo i voti. Stasera qui però per parlare di questo o di altro abbiamo ospite il coordinatore, perché mi ha detto così, il coordinatore di autonomia responsabile Giulia Manzan, benvenuta, che è responsabile proprio del partito che fondò allora l'ex Presidente Tondo, che ne è il leader e ne è anche dove ha posto anche la sua candidatura. Ecco, mi pare che state viaggiando molto sul territorio e avete dei cavalli di battaglia, per esempio il lavoro che mi pare ne voleva parlare, no? Certo, stiamo lavorando molto sul territorio, ricordo che autonomia responsabile è una lista che nel 2013 ha preso quasi l'11% dei consensi, quindi abbiamo voluto massimizzare, migliorare questo patrimonio di consensi e attualmente autonomia responsabile è partito politico regionale, ha ben 5 consiglieri regionali in regione e ha operato al suo interno una modernizzazione. E vorrei spiegare in che senso, in termini sia di cambiamento, di persone nuove, lasciando persone giovani, nuove dello scenario politico regionale, ma non certo in esperte, di potersi impegnare politicamente parlando e quindi anche la forma di autonomia responsabile non è una forma verticistica come i partiti tradizionalmente intesi, quindi pur avendo un leader forte, vero, riconosciuto come il nostro Presidente Renzo Tondo, c'è possibilità di impegnarsi con grande entusiasmo, energia e col proprio bagaglio di professionalità. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, modernizzazione in termini anche di atteggiamento, perché il termine Rottamatori non ha portato certo fortuna a chi l'ha utilizzato. Noi invece siamo persone molto giovani, ce ne sono tanti altri come me e abbiamo un atteggiamento di assoluta apertura all'ascolto, ad apprendere da chi esperienza politica l'ha fatta in tanti anni. Ricordo che non c'è soltanto il Presidente Tondo, ma c'è anche il consigliere regionale Walter Santarossa che è stato anche assessore alla sanità. Ecco, però mi pare che adesso ci sono delle new entry, mi pare che autonomia responsabile potrebbe dare alloggio, ospitalità o accordi, non so come, con gli ex alfaniani Carnierutti e Colauti. Questo è nell'ambito di una quarta gamba a livello anche nazionale oppure è solo un pur parlay. Beh, autonomia responsabile può rappresentare un laboratorio politico d'eccezione. Innanzitutto noi lo intendiamo in che modo? Vogliamo creare qualcosa che sia comunque di alternativo all'interno della coalizione di centrodestra, moderato e che dia una casa a tutti coloro che si sono allontanati dalla politica nazionale. E quindi anche con la lista Bini o solo voi? Beh, noi siamo in un momento di grande apertura, non escludiamo nessuno a priori, quindi per quanto riguarda la sua domanda sugli alfaniani, quindi Paride, Carnierutti e Sandro Colauti, noi abbiamo fatto questa conferenza stampa sul tema della legge di stabilità e in questa ottica non c'è stata un'ufficialità ancora al loro ingresso, però ci sono molti elementi di convergenza. Sicuramente la convergenza ci sarebbe nel caso in cui gli alfaniani dessero l'appoggio al centro-sinistra a livello nazionale. E noi comunque... E sarebbe una spaccatura qui in loco, no? Loro passerebbero un centro-destra. Esattamente. Per quanto riguarda la cosiddetta quarta gamba del centro-destra, come ben lei sa, Renzo Tondo e io insomma abbiamo dato una mano alla richiesta di aiuto dell'onorevole fitto nella costruzione di questa alternativa anche a livello nazionale. Che ricordiamo, lui è leader di direzione nazionale. Di direzione nazionale, sì, di direzione Italia, che assieme ad altri spezzoni del centro-destra vogliono partecipare in maniera unitaria a questa partita delle nazionali. Mentre Santa Rossa è un po' il terminale, mi passi il termine, di energie per l'Italia, non mi pare? Sì, esattamente. Quindi avete più anime che danno appunto vita. Certo, più esperienze che sicuramente portano bene. Però vorrei fare una riflessione, se me lo permette. Noi stiamo lavorando anche in questo laboratorio di autonomia responsabile nell'ottica anche degli anni futuri, perché la nostra previsione è questa, che verosimilmente i partiti maggiori, Forza Italia o il Partito Democratico, saranno a nostro avviso verosimilmente destinati a scomprire o a trasformarsi. Se pensiamo alla storia del berlusconismo, ad esempio, è sempre il rilancio del leader Berlusconi, quindi di se stesso. E se pensiamo ad esempio al renzismo, è una storia molto più recente, ma già in caduta libera. Come diceva un famoso... Mi perdoni, però mi pare che anche Renzo Tondo si sta rilanciando con lui. Beh, per noi l'hanno definito l'usato sicuro, mezzo stampa, per noi è una garanzia, ma come coordinatore regionale lo definirei il leader che meglio può interpretare e guidare in questa fase di transizione, politicamente parlando, sia regionale che nazionale, vediamo tutti questi scenari, queste trasformazioni, può darci una guida e quindi rilanciare la nostra regione, il Friuli Venezia. Ecco, diciamo che se lui fosse scelto dagli alleati per guidare la regione, sarebbe la prima scelta per Tondo in sostanza? Beh, naturalmente Renzo Tondo, il nostro presidente non ha mai nascosto la voglia comunque, chiamiamola così, di rivincita dopo l'esperienza del 2013, sappiamo tutti come si è conclusa, però Renzo Tondo è un uomo pronto a tutto fondamentalmente, anche a fare soltanto l'imprenditore, poi che il centrodestra abbia più candidati alle regionali è sicuramente una ricchezza, ho appreso di recente che anche Scocci Marro, anche Ciriani, sono dei nomi papabili, però in questo balletto di candidati che pian piano si sta riducendo a un duello, noi abbiamo anche spronato gli alleati a trovare subito, sbrigarsi a trovare una soluzione, anche perché, scusi mi permetto di dire questo, noi non abbiamo assolutamente paura di confrontarci con l'elettorato e quindi noi siamo sempre stati i colori quali hanno promosso l'utilizzo delle primarie. Le primarie, ecco, ma poniamo che tra il duello verosimile, Fedriga, Riccardi, ci fosse una terza persona, si parla anche della Dicenta, lei ha sentito questo nome, potrebbe essere gradito oppure fuori dei giochi? Ma ho sentito anche altri nomi, ho sentito anche il nome di Ballock, ad esempio. Ecco, di Ballock. Ripeto, è una ricchezza avere più candidati, significa che il centrodestra ha creato piano piano delle persone che possono rappresentare questa regione, che è un po' quello che vogliamo fare noi, creare una classe dirigente nuova e formarla per gli anni futuri. Ripeto, noi comunque a questo punto non abbiamo alcuna pregiudiziale nei confronti di nessuno, alcun timore a confrontarci con l'elettorato, l'utilizzo delle primarie, qualcuno mi dice che non c'è un regolamento, rispondo facciamolo, qualcuno mi dice che per scegliere candidati sindaco nei vari comuni che poi sono andati al voto non si è utilizzato le primarie, però io rispondo dicendo che se si fossero fatte magari sarebbero emersi dei nomi diversi, magari anche migliori. Esatto. Ecco, per esempio per Udine potrebbe scegliere in campo qualche candidato proposto da voi, magari scelto da voi, perché mi pare che in un'intervista tempo fa Renzatondo ha detto proprio agli alleati, datevi una mossa, altrimenti noi partiremo con il nostro candidato. Certo, l'invito è sempre quello a sbrigarsi, sul piano regionale, scusi, è ovvio che noi siamo realisti e quindi dobbiamo fare i conti con i partiti nazionali, però noi certamente farebbe piacere sceglierlo qua il candidato in regione. Per quanto riguarda Udine invece noi abbiamo il nostro candidato o candidata, per ovvi motivi non svelerò il nome, però dobbiamo anche fare un'osservazione costruttiva. In questo tavolo comunale di coalizione di centrodestra la sintesi a tutt'oggi, sia per quanto riguarda il nome del candidato che del programma, non c'è. Quindi probabilmente, o forse perché, non sono state coinvolte tutte le forze civiche, tutte le forze politiche. Probabilmente è un gioco ad incastro con collegi nazionali, candidato regionale Udine, mi pare che la Lega cerca un candidato a Udine con Fontanini, quindi forse questo gioco rallentato forse potrebbe danneggiare a lunga o forse potrebbe favorire per la sorpresa finale. Ma io credo che ci voglia un grande senso di responsabilità in questo momento di serietà. La partita delle comunali a Udine può essere tranquillamente slegata dalla nomina di un candidato alle regionali, anche perché Udine è una città in grande sofferenza, quindi noi dobbiamo sempre tener conto che dobbiamo rispondere prima di tutto ai nostri cittadini che attendono dopo dieci anni di governo. Che cercano un rilancio vero. Assolutamente sì, Udine purtroppo si ascolta anche i racconti delle persone, veramente si sentono abbandonati, c'è forte preoccupazione e senso di insicurezza. Ci vuole comunque una persona, ripeto, candidato o candidata che abbia una visione per Udine, di rilanciare Udine che deve tornare a essere quel centro di traffici commerciali, forte anche di un centro culturale, secondo me, di un centro storico molto attrattivo anche. Ecco, però voi come autonomia responsabile avete il cavallo di battaglia. Uno è sicuramente il lavoro, ma l'altro è anche l'immigrazione, mi pare fra poco noi dovrà scappare perché avete una manifestazione proprio a Udine. E quindi quali sono le proposte che fate, per esempio? Noi facciamo proposte di buon senso, pratiche e che soprattutto riusciremo a mantenere. Non vogliamo parlare con slogan elettorali o far farse promesse. Per quanto riguarda il lavoro, pongo l'attenzione sul lavoro per quanto riguarda i giovani. Ho più volte già parlato della staffetta generazionale. Grande sofferenza. È vero. E io in qualità di coordinatore giovane e anche di lavoratrice a tempo determinato vivo a pieno questa situazione di precarietà e quindi di preoccupazione per il nostro futuro, di tutti noi giovani. Semplicemente la staffetta generazionale prevede l'inserimento di un giovane nella stessa azienda o comunque inoccupato e per il lavoratore più maturo a pochi anni dalla pensione la modifica del contratto a part time, di modo che la regione si faccia carico dell'integrazione contributiva e possa essere inserito questo ragazzo giovane. Abbiamo anche altre proposte sulla tassazione, la riduzione della tassazione per la montagna. Il nostro consigliere regionale Roberto Revellant ha fatto una proposta di legge, no? in questo senso, quindi che prevede a fronte di una cifra che è di 14 milioni di euro che quindi non pesa troppo sul bilancio regionale, la riduzione del 50% dell'addizionale IRPEF comunale e regionale e dell'IRAP nelle fasce dei comuni. Ecco, siamo, abbiamo sforato abbastanza. Due domande gliele devo fare. Allora, quello di immigrazione, mi pare avete già una proposta su quello, no? Certo, abbiamo delle proposte anche su questo. Sicuramente stasera ci sarà un'analisi approfondita, soprattutto anche sul modello dell'accoglienza diffusa che ha rappresentato l'apoteosi del fallimento del governo di questa giunta regionale ma anche nazionale, della sinistra nazionale perché è impensabile poter creare, insomma, pensare di poter introdurre queste persone che poi alla fin fine vengono a loro volta abbandonate con della cittadinanza che alla fin fine non li vuole. Crea un attrito e una dose esplosiva, proprio una tensione sociale. E poi l'ultima, l'ultima, lei preferrebbe che Tondo volasse a Roma oppure che cosa facesse qui come candidato presidente? Beh, il presidente... Il posto che lei mi pare tempo fa ha detto che non si candida, no? Esatto, io non mi candido, il mio ruolo è ben chiaro, da coordinatore regionale. Beh, il presidente Tondo ama moltissimo la sua regione, quindi ripeto, è un uomo pronto a tutto. Quella sarebbe la prima scelta, benissimo. Allora, io ringrazio Giulia Manzan per la chiacchierata che abbiamo fatto qui stasera a Telefriuli al Punto, per la sua disponibilità, naturalmente è ben accetta anche nelle prossime volte perché ci saranno di dibattiti, quindi sarà accettamente alla partita. e passo la linea del giornale, mi scuso per aver sfogato. Buonasera. 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 Buonasera.